8, 7, 6, 5 Jordation Martínez fra i pali Calapai, Terlucci, Perluci Terlucci che non ce la faccia Zanty, Clerson Vestri e Albert Tiff Rai, Terlucci, R Kathar Sanzano, Faghera Chiudiriansca, Lucio Graziano Clayton contro Avantaggiato far imbalzare la palla C棉 regionale ma è una buona idea Calidgeando al centro dell'area Colpo di testa Patti dimensioni Partipino, palla che scheggia la traversa, primo brivile della giocata, ritmi alti con visaperto, ancora Partipino il tentativo, Martínez, si accende, entro di Partipino, intanto Mannetti, doppio passo, triplo da parte del numero 19, poi Welbeck, alla distanza, una bola che non fa! La scuola nell'estremo difensore dell'area, il lancio è buono per Partipino che controlla in testa l'interno dell'area, ancora Partipino sul plus, tocco il centro, il ribocchio con la conclusione ribaduta da Mannetti, uno spara le marce, cadendo il doppio passo, si va a invucare centralmente, non si riesce a portare, ancora non è, si possa perdere nel momento del passaggio, con il mancino! Il tempo, cercare la conclusione, l'immunità numerica nella metà campo avversaria, Catania che ha giocato più di cartezza, attenzione a Partipino la rete! Entoni Partipino, stavolta non può nulla, Migrania e Martínez, si sblocca, il passaggio, dopo la traversa stavolta, trovato in raspiorata proprio Martínez, l'unico e tre, intanto Torromino, il cross per vantaggiato Martínez! Miesce a smaracciare in qualche modo, Torromino cerca di puntarlo, va subito in fondo, il cross per Biondi! Bella l'esecuzione, inrovesciata, Rosaia, prima dopo con la Ternana, il cambio per gli Umbri, il centrocampo composto da Weld, il partito di Torromino continua a giocare, la Ternana intessa la sua manola sull'alto di sinistra, il cross di Mammarella e la rete! Proprio Rajcevic, comune a pace, dare di rigore, taglia l'area sul primo palo, Freda Martínez, la Ternana trova il gol del raddoppio stavolta, perfetto, deccare l'inserimento di Rajcevic, anche il partire del secondo tempo, Catani è 0, Ternana 2, Lazio che può aggredire Torromino, la solita sovrapposizione con un treno di Mammarella, libera lo spazio centrale, Torromino sul secondo palo, ancora Rajcevic! Velocemente la Ternana in tre passaggi, Rajcevic apre lo spazio, Clayton che cerca di rinvenire, poi Torromino dall'altra parte, ritrovo dell'area, ancora Torromino, occhio al destra, giro Torromino, palo! La palla rimane lì, la conclusione, la rete! Il 3-0 della Ternana! La palla che si è andata a insaccare sul palo lungo di Martínez, lasciata andare, c'è l'offensiva! Tanto cambio per il Catania dentro, Gatto fuori, Manuel Sao, quindi Calabaglia, l'interno dell'area, il cross non ci ha fatto fare, lo scelta, si spera Gatto, ma ancora cade per Bober, parla in angolo, dei maker, goleador, parte Maldonado, la conclusione, la rete! Imprendibile! Destro di Maldonado, dicevamo, non possa riaccendere un po' la partita, Catania che stava facendo la partita, intanto Welbeck, verso Calabaglia, la palla verso Gatto, che aveva approfittato dell'uscita a vuoto di Anna Rilli. Adesso, il triplice fisco del direttore di gara, si chiude così, se ho provato a farla che Bola vuota 12 punti in passifica, ancora in battuta prima.